Il Consiglio regionale unanime contro la guerra in Ucraina. Precariato in sanità, prorogati i contratti fino a fine anno. Al via la discussione sulla festa del Piemonte. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. In questi giorni si illumina di giallo e blu i colori della bandiera dell'Ucraina. Un segnale visibile della vicinanza alla tragedia che questo popolo sta vivendo, spiega l'Assemblea legislativa, che nella seduta di mercoledì ha approvato un ordine del giorno di ferma condanna all'aggressione militare che il popolo ucraino sta subendo. Sia unanime del Consiglio regionale all'ordine del giorno, primo firmatario il Presidente dell'Assemblea e del Comitato regionale per i diritti umani e civili Stefano Allasia è condiviso da Ufficio di Presidenza e Capigruppo, dove si esprime ferma condanna per l'aggressione militare in atto da parte della Russia e in Ucraina, solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita e l'impegno per un immediato cessate il fuoco e la convocazione di un negoziato di pace multilaterale. Dare sostegno umano e psicologico agli ucraini presenti sul nostro territorio, non solo ai profumi ma anche a quei parenti che hanno purtroppo delle persone vicine, care, che stanno vivendo dei momenti drammatici dovuto a questo conflitto che nessuno si aspettava. Il documento è stato illustrato in apertura di seduta dalla consigliera e vicepresidente del Comitato diritti umani del Consiglio, Sara Zambaia, Lega. Il messaggio contenuto all'interno di questo documento è un messaggio di pace, in prima battuta, ma un messaggio chiaro, politico, forte, che chiede un immediato cessate il fuoco, perché pensare nel 2022 di vivere l'orrore della guerra e delle guerre che hanno vissuto i nostri nonni nel Novecento è qualcosa che mai avremmo potuto immaginare e ci deve trovare come istituzioni pronte e attente per fare tutto ciò che nelle nostre facoltà e possibilità e che dobbiamo necessariamente fare. L'ordine del giorno dà mandato ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in qualità di presidente del Comitato per i diritti umani, di continuare a seguire l'evolversi della situazione e fornire ogni aiuto possibile con raccolta di fondi e materiali di prima necessità, da inviare in Ucraina a sostenere gli ucraini residenti in Piemonte e a operare per ospitare chi sta fuggendo dalla guerra. Invita il governo italiano a continuare ad adoperarsi per attivare ogni sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine al più presto ai combattimenti. Impegna inoltre il presidente del Consiglio regionale a esporre la bandiera della pace nella facciata di Palazzo Lascaris, quale sede di difesa dei valori della pace e ripudio di ogni forma di guerra e di violenza. Numerosi gli interventi dei consiglieri di maggioranza e opposizione nell'ambito del dibattito in aula. Come Consiglio, nella sua interezza, abbiamo espresso, stiamo esprimendo ovviamente una ferma condanna all'aggressione che il popolo ucraino ha subito. Stiamo altrettanto affermando piena solidarietà in termini di accoglienza, di cure che si rivolgeranno anche a quei bambini che verranno accolti presso i nostri ospedali per ricevere la solidarietà e le cure di cui hanno bisogno. Siamo disponibili a fare tutti gli atti esecutivi in Consiglio regionale necessari per stanziare più risorse a bilancio immediatamente in modo da essere ancora più efficaci nell'accoglienza, essere più utili in questo momento così di grave crisi umanitaria. Quando c'è da aiutare le persone in difficoltà, soprattutto in un caso come questo, bisogna mettere da parte quelle che sono le divisioni politiche e rispondere unitariamente perché per queste persone un giorno in più vuol dire tantissimo. Quindi questa è la dimostrazione che abbiamo voluto dare oggi. L'Assemblea ha poi osservato un minuto di silenzio per le vittime del conflitto. Precariato in sanità, prorogati i contratti fino a fine anno. Come intende procedere la Regione Piemonte per stabilizzare il personale amministrativo sanitario finora coinvolto a tempo determinato? Questo è il tema al centro dell'interrogazione a risposta immediata che il capogruppo PD Raffaele Gallo ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi. Eventuali procedure di stabilizzazione possono avvenire sulla base delle vigenti disposizioni normative e in particolare della legge Madia. Le amministrazioni hanno già prorogato su richiesta dell'assessorato tutti i contratti a tempo determinato fino all'anno e procedono contestualmente alla stabilizzazione di tutto il personale quanto possibile con detti limiti. Nei periodi emergenziali, grazie ai fondi Covid, si è riusciti a sopperire alla necessità di personale attraverso avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, ha dichiarato Raffaele Gallo. Ritengo, prosegue, che sia doveroso adoperarsi in tutti i modi possibili per una stabilizzazione definitiva. La proroga dei contratti fino alla fine dell'anno non è una soluzione, ma solo un rinvio del problema. Alvia la discussione sulla festa del Piemonte. Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha presentato in prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, la sua proposta di legge che istituisce per il 19 luglio la festa del Piemonte abrogata nel 2009. La data del 19 luglio è stata scelta perché ricorre la battaglia della Sietta del 1747 in cui le truppe dei Savoia respinsero l'attacco francese e che è considerata uno dei momenti simbolici dell'autonomia e dell'identità piemontese. Come presidente del Consiglio regionale vorrei istituzionalizzare la festa del Piemonte il 19 luglio e la rievocazione della battaglia della Sietta, un giorno importante per tutti i momentesi, ma non solo per la data, ma anche nella legge abbiamo messo un'iniziativa, una serie di iniziative, un calendario di manifestazione e di feste per rievocare il Piemonte. La proposta di legge ridefinisce anche il ruolo del centro Gianni Oberto istituito da una legge regionale dell'80 con lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese ampliandone il comitato consultivo che di concerto con il presidente del Consiglio regionale deciderà sul calendario delle iniziative volte a valorizzare la storia e la cultura piemontese. La proposta di legge, infine, ridefinisce le modalità di esposizione della bandiera del Piemonte in occasione della festa e di avvenimenti che rivestano particolari importanze e solennità regionale o locale. I senza fissa dimora avranno assistenza sanitaria. La Commissione Sanità ha approvato il testo di Marco Grimaldi, Liberi e Uguali Verdi, in attesa della norma finanziaria. La Commissione Sanità, riunita in sede legislativa e presieduta da Alessandro Stecco, ha approvato all'unanimità l'articolato della proposta di legge su assistenza socio-sanitaria ai senza fissa dimora, presentata dal primo firmatario Marco Grimaldi, Liberi e Uguali Verdi. Il provvedimento recepisce alcune modifiche dello stesso Grimaldi e dell'assessore alla sanità Luigi Cardi e riconosce ai senza fissa dimora, privi di qualsiasi assistenza, la possibilità di iscriversi nelle liste dell'ASL, di scegliere il medico di medicina generale e accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza. L'inserimento nelle liste avverrà su segnalazione dei servizi sociali. Il provvedimento dovrebbe coinvolgere circa 3.500 persone. Per l'approvazione finale, il testo deve passare ora all'esame della Commissione Bilancio per la norma finanziaria e tornare in Commissione Sanità per l'approvazione definitiva. Il Consiglio regionale del Piemonte, su proposta della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ha aderito lunedì 28 febbraio all'iniziativa Global Chain of Lights, promossa da Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare, con il Ministero della Cultura per la quindicesima giornata internazionale delle malattie rare. Per l'occasione, Palazzo Lascaris si è illuminato con i colori della comunità mondiale e delle persone che si trovano a convivere con una malattia rara, l'azzurro, il verde e il rosa. Si calcola che le persone che vivono con una malattia rara siano circa 300 milioni nel mondo e circa 2 milioni in Italia, di cui il 70% in età pediatrica. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!